buongiorno a tutti ecco a voi la nostra proposta per halloween trasferiremo un simpatico fantasmino su di una felpa 100% cotone prima però vi faremo vedere quanto è semplice e veloce spellicolare ps film lumen riscaldiamo un attimo la pressa e appoggiamo il nostro materiale procediamo come di consueto con la rimozione del materiale in eccesso ed eccoci pronti per il trasferimento andremo ad usare un kit prodotto da noi e composto da cuscinetti di diverse misure per creare spessore ed aiutarci quindi nel trasferimento ora procediamo come segue apriamo la zip appoggiamo la parte destra della felpa sul piatto inseriamo il supporto spingendo bene all'interno della felpa in modo da lasciare libera la zip centrale facciamo lo stesso lavoro per la parte sinistra in questo modo durante il trasferimento la zip non creerà nessun dislivello e il materiale potrà aderire perfettamente al tessuto alcuni fantasmini andremo ad applicarli proprio in concomitanza delle cuciture per fare vedere come ps film sia un prodotto notevolmente duttile pressiamo a 150 gradi centigradi per 15 secondi la rimozione avviene a caldo ed ecco il risultato ora ci concentreremo sulle maniche appoggiamo due cuscinetti per non creare dislivelli ne andiamo ad applicare sempre per 15 secondi alla temperatura di 150 gradi centigradi e ora il cappuccio e ora il cappuccio per un risultato omogeneo e strabiliante sempre per 15 secondi alla temperatura di 150 gradi grazie a tutti